Oggi coltiviamo i pomodori! Guarda quanto sono belli! Possiamo anche pensare delle strutture che sviluppano un orizzontale. Buongiorno a tutti, eccoci qui oggi con un nuovo argomento. Oggi parleremo dei 5 errori più comuni che si commettono nella coltivazione del pomodoro. Quindi di conseguenza vedremo anche come coltivarli e come farsi di avere una buona produzione e delle piante sane. Il primo errore che si commette spesso riguarda proprio lo spazio, quindi la distanza tra le piante di pomodoro. Per chi fa coltivazione industriale e professionale è normale cercare di mettere le piante più vicino per ottimizzare lo spazio, quindi avere in un determinato spazio più piante e anche più produzione. Ma per chi come noi magari vuole fare l'orto familiare a casa è importante tenere le piante di pomodoro un po' distanti, così facendo avremo delle piante più sane che si riusciranno a sviluppare meglio, quindi magari anche la singola pianta riuscirà a produrre di più e soprattutto non si ammalerà. La distanza ottimale tra le piantine è di circa 70 centimetri. Possiamo ridurlo a 60-50 centimetri, però con 70 centimetri siamo sicuri che con i pomodori a crescita indeterminata, quindi quelli che crescono molto, abbiamo delle piante che si possono sviluppare al massimo del loro splendore. Tra le file invece possiamo lasciare 80 centimetri un metro. Questo lo si fa ovviamente per poter passare più agevolmente per potare e raccogliere i frutti. Il secondo errore riguarda la mancata potatura. Infatti il pomodoro si pota. Non si potano solo gli alberi da frutto, ma anche gli ortaggi. La potatura principale e che consiglio a tutti di fare è l'eliminazione delle prime foglie, quindi quelle basali, sui primi 30-40 centimetri. È una potatura che bisogna fare man mano. Man mano che la pianta si sviluppa in alto e produce nuove foglie, noi andiamo a eliminare quelle più basse, perché sono più vicine al suolo, prendono più umidità, tendono a sprucarsi con la terra e sono le prime ad ammalarsi. Infatti quando arriva la peronospora, quella malattia fungina che accartoccia tutte le foglie, parte proprio dal basso e man mano si sposta verso l'alto, quindi ci fa perdere completamente la pianta. Se invece il primo tratto di fusto è libero dalle foglie, non avremo foglie che si ammalano e soprattutto ci sarà più aria che circola tra le nostre piante di pomodori. Avendo delle piante più areggiate, avremo anche meno malattie fungine. Altra azione di potatura importante è la sfemminellatura, quindi l'eliminazione dei rami ascellari. La femminella o ramo ascellare è il ramo che cresce tra il fusto principale e la foglia. Lo distinguiamo con la regola delle tre dita in cui abbiamo il pollice che è il fusto principale, il medio che è la foglia e l'indice è proprio la femminella. Qui abbiamo il fusto principale, la foglia e in mezzo cresce la femminella. Sono due i motivi principali per cui conviene eliminare le femminelle. In primis andiamo a direzionare l'energia della pianta su un solo fusto, quindi la pianta avrà maggiore vigoria. Se dovessimo lasciare tutte le femminelle avremmo molti fusti e quindi probabilmente la pianta avrà poco vigore e farà dei pomodori di piccola pezzatura. Il secondo motivo sta proprio nelle malattie fungine. Infatti se lasciamo tutte le femminelle il pomodoro risulterà un cespuglio molto fitto e quindi dove ci sarà più umidità e più possibilità di ammalarsi. Se invece abbiamo un fusto bello libero, bello lineare, riuscirà a essere maggiormente areggiato e le malattie fungine non attecchiranno con così tanta facilità. Con una piantina di pomodoro giovane come questa dobbiamo andare a eliminare le femminelle quando sono ancora piccole così e quindi non provochiamo nessuno stress alla pianta, nessuna ferita e poi eliminiamo le foglie basali. Questo lo facciamo col coltello perché con le dita potremmo creare delle ferite con maggiore superficie. Invece così siamo belli, precisi e netti. Anche con questa pianta giovane andiamo a eliminare le foglie più in basso che addirittura toccano terra e quindi quelle che si ammalerebbero senz'altro. E poi eliminiamo le femminelle. Anche qua ci sono delle femminelle abbastanza piccole. Se la femminella diventa più grande consiglio sempre di lasciare mezzo centimetro e toglierlo con il coltello. Eliminiamo le femminelle, anche quelle più in alto, così da direzionare la vigoria solo su una cima. Anche per le foglie basali ovviamente è meglio lasciare circa un centimetro perché se stiamo troppo vicini al fusto, troppo radenti, il rischio è di andare a intaccare anche il fusto principale. Quando la pianta raggiunge una certa dimensione e una certa maturità conviene lasciare le femminelle. Infatti da circa metà luglio io non le elimino più perché è importante per ombreggiare i frutti. Infatti i frutti molto esposti verso luglio e agosto rischiano di scottarsi e rovinarsi. Invece avere qualche femminella permette di avere più ombreggiamento. Oltretutto facciamo sì che la produzione rimanga in basso perché se noi eliminiamo tutte le femminelle maturati i frutti e raccolti avremo una pianta completamente spoglia. Se invece lasciamo crescere la femminella avremo sempre dei fiori e dei pomodori in basso. Se no la pianta continua a produrre sempre più in alto e prima o poi i pomodori non riusciamo più a raccoglierli. Infatti qua abbiamo una pianta già matura che si è sviluppata su un solo fusto perché è stata potata e abbiamo dei frutti che stanno maturando ma fra qualche giorno quando i frutti verranno raccolti questa parte di pianta sarà completamente spoglia. Fortunatamente abbiamo delle piccole femminelle che si stanno sviluppando. Le lasciamo crescere così che fra qualche settimana anche loro inizieranno a fiorire e fruttificare. Quindi tra un mese avremo altri pomodori sempre a questa altezza. Ricapitolando pianta giovane ancora bassa sotto il metro e mezzo togliamo tutte le femminelle e lasciamo un solo fusto per migliorare la vigoria della cima. Pianta invece matura che ha già prodotto lasciamo le femminelle così da mantenere la produzione in basso. Il terzo errore è non mettere i sostegni. Infatti il pomodoro è una pianta che non è in grado di autosupportarsi. Anche se sviluppa un fusto che raggiunge qualche centimetro di diametro lei tenderà sempre a piegarsi e strisciare. Però se lasciamo strisciare il pomodoro sarà più a contatto col suolo dove c'è maggiore umidità e quindi anche più probabilità di malattie. Se invece il pomodoro lo facciamo sviluppare in verticale sarà più ereggiato, riceverà molta più luce e quindi anche i frutti saranno di maggiore qualità. Nelle coltivazioni industriali spesso si vedono in pieno campo i pomodori lasciati strisciare. Quello lo si fa per comodità e soprattutto è una produzione meccanizzata. Dove si fanno dei trattamenti e poi i pomodori tendenzialmente vengono utilizzati per la passata di pomodoro. Se invece nel nostro orto vogliamo dei pomodori sani e che siano prestanti dobbiamo farli arrampicare. E possiamo farli arrampicare in due metodi. O con delle aste, quindi dei pali rigidi e leghiamo il pomodoro circa ogni 15-20 centimetri. Oppure con il filo, ideale per quando abbiamo una serra e quindi possiamo tranquillamente legare i fili in alto e farli scendere in basso. Man mano che il pomodoro crescerà lo andiamo ad arrotolare sul filo e quindi si autosergerà senza doverlo legare. Io per legare utilizzo la rafia che è un materiale naturale e leggo ogni 20 centimetri man mano che la pianta cresce. Così facendo la pianta avrà più punti di ancoraggio, sarà ben stabile al palo e se c'è vento non si piega men che meno si spezza. Perché se noi la leghiamo ogni 40-50 centimetri il rischio è che con una giornata di vento la pianta si vada a spezzare proprio nel punto in cui viene legata. Potete pensare anche a dei sostegni o dei fili orizzontali per andare a legare le femminelle e farle sviluppare in orizzontale. Con il sistema filo la comodità è che quando la cima tende ad abbassarsi noi la riprendiamo, facciamo uno o due giri e avremo la pianta perfettamente dritta senza aver dovuto mettere legacci, spaghi o fili di ogni genere. Anche con questa vado a toglierle due femminelle di troppo e dopodiché andiamo a legarla. Sempre col filo andiamo a rotolare, uno, due giri e la pianta è perfettamente dritta. Arrivati a luglio, metà luglio è normale lasciare andare un po' la pianta, quindi far sviluppare le femminelle e far sì che la sua vigoria sia divisa in più branchette. Così facendo lei non diventerà altissima perché se dovessimo continuare a tenere un fusto la nostra pianta di pomodoro potrebbe diventare tranquillamente tre o quattro metri. Così invece avremo più organi fruttiferi, la pianta comunque ha già raggiunto abbastanza vigoria perché l'abbiamo potata ai mesi precedenti e qui a questa altezza non c'è neanche troppo il problema dell'umidità. Il quarto errore riguarda il marciume apicale, il cosiddetto c***o nero. È quando il frutto del pomodoro alla base anerisce, questo è dovuto a una carenza di calcio però la carenza di calcio non è dovuta sempre al fatto che nel terreno manca il calcio è dovuta spesso al fatto che la pianta non riesce ad assorbirlo. Il fattore che incide di più infatti è proprio l'irrigazione. Se abbiamo un terreno troppo asciutto o sempre troppo bagnato la pianta di pomodoro tende a smettere di assorbire il calcio infatti il calcio viene assorbito tramite l'acqua dalle radici e se manca l'acqua manca anche il calcio e se invece abbiamo troppa acqua le piante vanno in asfissie radicale quindi anche lì le radici non funzionano bene e il calcio smette di essere assorbito. Ovviamente possiamo eseguire delle concimazioni a base di calcio o per viafogliare o per fertirrigazione ma quello che conviene di più è lavorare sul suolo, sulla fertilità del suolo e far sì che i pomodori, il calcio, lo riescano a prendere in autonomia. Io consiglio sempre con i pomodori e in generale con qualsiasi ortaggio di mettere una buona pacciamatura sul suolo quindi fatto con la paia, fatto con le foglie così facendo in primis abbiamo tanta sostanza organica che nutre proprio le nostre piante e i microrganismi del terreno ma soprattutto abbiamo un'umidità che riesce a essere maggiormente trattenuta dal suolo eviterà così le tipiche croste del terreno quando abbiamo il terreno nudo e piove abbiamo un terreno umido quando asciuga crea tutte le croste e tende a compattarsi questa è una cosa che il pomodoro odia se invece abbiamo una buona pacciamatura rimarrà sempre umido evitiamo di bagnare troppo le nostre piante perché andranno meno facilmente in stress idrico quindi la pacciamatura è davvero la manna per moltissimi mali il quinto errore riguarda le malattie e di conseguenza anche i trattamenti già tutte le azioni che abbiamo visto in precedenza servono per far sì che la pianta non sia mali dalla potatura al sostegno alla distanza tra le piante ma anche la stessa pacciamatura infatti la peronospora il fungo più comune che attacca il pomodoro sverna e rimane nel suolo quando piove forte l'acqua colpisce il suolo e delle piccole goccioline finiscono sulle prime foglie ed è per quello che noi andiamo a potarle facendo così poi il fungo dalle prime foglie si propaga su tutta la pianta se abbiamo la pacciamatura la pacciamatura attutisce la forza della pioggia che non colpisce poi il suolo e di conseguenza la peronospora non si propaga se decidiamo di fare dei trattamenti alle nostre piante dobbiamo ricordarci che i trattamenti sono preventivi perché quando vediamo la malattia spesso è troppo tardi quindi se nel nostro orto abbiamo visto che già siamo soggetti a delle malattie fungine conviene fare i trattamenti preventivi e gli elementi con cui possiamo fare i trattamenti sono davvero moltissimi consiglio ovviamente l'apropoli che è un prodotto completamente naturale la polvere di roccia come ad esempio può essere l'aziolite oppure i macerati il macerato ad esempio di equiseto è ricco di selicio e quindi ha un'azione antifungina anche i più comuni trattamenti come i bicarbonati o il verde rame si possono utilizzare però ricordo che hanno dei tempi di carenza quindi se noi andiamo a fare un trattamento quando la pianta ha sui frutti dobbiamo aspettare qualche giorno prima della raccolta nel caso del verde rame 3, 4, anche 5 giorni nel caso invece dei bicarbonato basta anche un giorno solo con questo il video si conclude spero vi sia stato utile se avete delle domande scrivete pure nei commenti in ogni caso mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale fate i bravi con le piante e fate i bravi con i pomodori ciao a tutti ciao a tutti